Ciao a tutti amici di Avriai, player review di Messi International Man of the Match su Ultimate Team 97 per questa carta lo stesso identico overall, le stesse identiche statistiche della versione Team of the Season questo perché? Perché la carta International Man of the Match viene aumentata di un punto di valore rispetto all'inform più alto che ha avuto il giocatore e l'inform di Messi più alto era il 96 dopo che ha avuto anche un 95 ma parliamo di questo giocatore qua perché ovviamente per forza di cose vi devo dire che l'ho trovato una cosa fantastica work rate alto medio, 3 stelle piede debole, 4 stelle mosse abilità, vi dico subito che le 3 stelle sul piede debole non si sentono praticamente per niente sembra che ne abbia almeno 4 sicuramente parliamo di com'è allora in game Messi beh intanto questo 95 di velocità si sente tutto, a volte sembra quasi che sia ben di più lui infatti ha 99 di accelerazione e 93 di sprint unito a un controllo palla eccezionale con un'agilità 99 controllo palla ovviamente agilità 98, 99 equilibrio 99 riflessi non ho mai provato un giocatore così eccelso nel dribbling dribblare con lui è di una facilità estrema una facilità estrema, questo 66 nella forza fisica diciamo che si sente non tanto nei contrasti spalla spalla in corsa perché comunque questa agilità e questo equilibrio con valori allucinanti lo portano a comunque cercare di rimanere in piedi diciamo non essere sbilanciato dai contrasti avversari magari nei contrasti invece da in piedi questo sì il suo fisico essendo anche un giocatore piccolino, lo sappiamo tutti, 1,69 per lui è più facile che perde il pallone se invece andiamo a parlare del tiro, beh ragazzi il tiro di Messi vi fa vincere le partite vi fa vincere le partite la prima partita che ho fatto mentre lo provavo avete visto la mia formazione non è niente di speciale, l'unica carta importante era lui ho giocato contro un team pieno di team of the season tra cui Diego Costa, poi mi pare che ci fosse anche Neymar dentro De Gea, team of the season in porta 5 gol di Messi, 5 gol fantastici veramente sia di destro che di sinistro un tiro, un effetto incredibile questo 96 di effetto è allucinante il 99 di finalizzazione poi quando voi siete da limitare dell'aria in poi praticamente dovete sbagliare apposta perché dovete sbagliare apposta per non fare gol ha un 97 nei tiri della distanza con 89 di potenza tiro per cui i tiri diciamo secondo me il valore che veramente ha un'incidenza enorme è proprio il 99 di finalizzazione cioè voi potete veramente tirare in qualsiasi maniera poi ha un controllo palla che veramente voi non so il contrasto riuscite a rubare il pallone in una frazione di secondo lui si sposta il pallone sul piede che gli serve e tira in porta tranquillamente passaggi eccezionali se vogliamo parlare anche di questo perché veramente anche grazie a un 90 di visione di gioco come fa il suo nome come l'ho usato io non riesco a trovare le parole per descriverlo incredibile è dire poco anche un 78 nel colpo di testa con 80 di elevazione però questo ovviamente se lo usate come attaccante unico e crossate potreste anche andare però quando avete Messi è difficile scaricare il gioco sulle ali per fare i cross cioè Messi veramente vi dribbla a tutti ha una rapidità nel dribbling anche quando fate le skill veramente su un altro livello rispetto agli altri giocatori tiri al volo anche qui 99 per cui avete una probabilità di realizzazione altissima che altro dire ragazzi un giocatore veramente straordinario veramente straordinario allora adesso andiamo a ricapitolare a tutto a tutto a tutto ragazzi a tutto a dribbling a controllo palla a velocità passaggi lunghi passaggi corti cross un tiro fantastico delle statistiche fisiche eccezionali se vogliamo proprio mettere fra le cose negative il fatto che lui sia basso con questo 66 di forza fisica per cui nei contrasti magari da fermo frontali perderà spesso il pallone però tutte le cose buone di questo giocatore qua lo rendono veramente una carta incredibile ovviamente il prezzo è proibitivo perché si aggira intorno ai 3 milioni io questo l'ho pagato 2 milioni 800 mila crediti ma veramente ha work rate giusto 4 stelle skill che vi permettono di fare quello che volete 3 stelle sul piede debole che assolutamente sono molto di più in game veramente un giocatore fantastico ragazzi ovviamente se siete fra quei pochi baciati dalla dea fortuna che l'hanno trovato in un pack sapete già di cosa sto parlando se invece siete in dubbio se acquistarlo e se ne avete la possibilità vi dico a mani basse ovviamente state spendendo bene i vostri crediti questa signori è la review lasciate un bel commento lasciate un bel mi piace per la review di Messi ragazzi International Man of the Match e come sempre noi ci vediamo al prossimo video signori miei stay barba stay qualità ciao belli